Le vitelle tonne di via San Francesco da Paola a Torino sostiene Murrialdo For per i giovani Torino. Sono Casella Valentina, educatrice di Comunità Murrialdo Piemonte e lavoro nell'ambito dell'educativa scolastica. Il lavoro che faccio tutti i giorni comprende un progetto che si chiama Provaci ancora SEM, è un progetto mirato ai ragazzi e ai bambini delle scuole elementari e delle scuole medie del territorio. Questo progetto cerca di combattere il più possibile la dispersione scolastica in un'ottica sinergica con i professori, i consigli di classe, i quali appoggiano la presenza dell'educatore per poter evitare che alcuni ragazzi abbandonino gli studi oppure per dare degli strumenti a coloro che hanno delle difficoltà come difficoltà di DSA, piuttosto che sociali o comportamentali. Si cerca di dare anche supporto pomeridiano, quindi extracurricolare. Abbiamo anche un doposcuola, la parrocchia Sant'Ignazio, che è un doposcuola mirato a chi ha una certificazione DSA e quindi un doposcuola specifico con professionisti competenti e preparati sulla materia. Ci sono delle cose che ci possiamo augurare per questi ragazzi. Innanzitutto che il progetto abbia delle ripercussioni positive. Apprendano degli strumenti e dei modi di lavorare, di studiare e se li possono portare avanti nel tempo, imparando anche ad essere autonomi senza più essere affiancati da nessuno. Apprendano degli strumenti e dei modi di lavorare, di studiare e di studiare e di studiare e di studiare.